Del corso mi è piaciuto tutto, mi è piaciuta l'energia che si è creata nel gruppo, mi è piaciuto l'argomento di cui abbiamo parlato, mi è piaciuto come al solito come Patrizia sviluppa tutto il lavoro e come al solito è sempre una grande apertura di cuore e un regalo immenso essere qui con voi. Lo consiglierei a tutti innanzitutto perché è un regalo enorme che ognuno di noi si può fare, è una grande opportunità per entrare in connessione con la parte più vera di noi e proprio per regalarsi un'occasione, un'occasione per crescere, per conoscersi, per stare insieme a persone speciali e per trovare un amore infinito in tutto questo. È grande, da questa esperienza mi porta a casa un lavoro che ho fatto stamattina, grande grande, e quel bigliettino che ho trovato sulla sedia aveva una parola che è un po' maledetta, nel senso è una parola che mi ha fatto lavorare veramente tantissimo e ha scavato dentro di me, ha portato alla luce alcune cose che erano irrisolte e che mi ferivano e dopo aver pianto tanto e aver espanso, finalmente se ne sono andate, hanno lasciato una grande pace e proprio un grande senso di leggerezza. Beh, come al solito, dire grazie a Patrizia è riduttivo. A Patrizia voglio un bene immenso e per me è un riconoscimento enorme quello che voglio dare a lei, a Patrizia, a tutto lo staff ed è stato un tornare a casa, rincontrarli oggi e dopo i tre giorni di luce c'era stato uno strappo immenso e tornare qui oggi è stato proprio ritrovarli, ritrovare, ricucire questo affetto, questo amore infinito che provo nei loro confronti e che dire, lo rinnovo qua apertamente, I love you so much!